tredicesima puntata di il mordente sabato 23 febbraio 12 e 49 sono tornato da un paio d'ore da una bella corsetta di 12 chilometri che ho iniziato con l'umore a terra un po perché faceva abbastanza freddo e mi ero vestito leggero un po perché da qualche giorno degli ultimi due giorni il ginocchio mi ha fatto male così dal nulla e quindi sono andato davvero davvero con l'umore giù e invece ho visto che dopo il terzo quarto chilometro insomma il dolore non solo non peggiorava ma mi è sparito del tutto anche adesso sto sto benissimo e ho proseguito sono andato a correre su una pista ciclabile che porta fuori roma e ho passato il parco ho passato il maneggio ho passato le stalle con quei tre o quattro cavalli da sotto che mi guardavano poi io mentre corro e incontro gli animali e vedo gli animali ma che sia il cavallo come in questo caso a roma capita di correre e trovare i cavalli veramente a bordo a bordo parco o a bordo pista ciclabile ma ha semplicemente anche un gatto che ti guarda da sotto la macchina o che ti guarda da sopra all'albero o lo scoiattolo non so se sono esattamente degli scoiattoli ma insomma quelli che si trovano qua nei parchi a roma ecco quando vedo questi animali che mi guardano io che corro è quasi una sensazione di vedermi riflesso nelle loro pupille piccolo piccolo là che corro e penso chissà se questi animali hanno una coscienza per capire cosa sta succedendo attorno a loro e vedere questo questo essere animato che si muove non capiscono il motivo probabilmente non lo capisco nemmeno io questa è la notizia un po più preoccupante ma ad ogni modo come vi va io sono quasi pronto per barcellona domani si parte per il mobile world congress 2019 domattina ho il volo starò la tre giorni e sarà una fiera un po più rilassata per me quest'anno però ho molto interesse di vedere i prodotti di stare un po in fiera perché quest'anno non sono andato a computex non sono andato a las vegas quindi voglio anche di incontrare un po colleghi persone che non vedo che prima vedevo spesso insomma vedevo ogni tot mesi che adesso non vedo da un po ma insomma dai al di là di questo a voi come va mi sembra mi sembra tutto bene mi sembra tutto ok mi continuate a mandare messaggi grazie come al solito anche email soprattutto questa settimana poi avete un po calato con il numero e vi ringrazio vi ringrazio perché vi vi lo sapete no ve l'ho detto anche la volta scorsa quando hai tanti messaggi a cui rispondere e quando non riesci a chiudere perché magari a volte sono stanco e dico ok questi 10 questi 20 me li lascio per il giorno successivo diventa brutto non mi piace preferisco andare la sera a letto aver chiuso il capitolo definitivo di quella di quella giornata vi ricordo però il numero soprattutto utile a chi mi segue da adesso 351 851 6089 se poi andate su ilmordente.it trovate tutti i riferimenti per mandare dei messaggi insomma fatemi sapere un po sia cosa pensate del podcast sia se avete degli spunti da lasciarmi insomma ormai avete capito quale sono gli argomenti che trattiamo però ci saranno delle novità dopo barcellona dopo mobile congress ve ne parlerò poi più avanti fra una decina di giorni almeno in questa puntata mi sono qua qua appuntato voglio rispondere ad alcune domande voglio continuare con il discorso della corsa che abbiamo iniziato la volta scorsa e voglio anche segnalarvi una cosa anzi lo faccio subito questa settimana l'ho già scritto sul gruppo telegram riccardo.im amazon ha messo in promozione il suo servizio di audiolibri audible che in realtà è vero contiene tanti audiolibri ma anche contenuti come corsi di lingue oppure cose che assomigliano un po di più ai podcast è molto illuminante farlo ascoltare queste cose non solo perché ovviamente 90 giorni è un bel periodo poi volendo voi subito fate la cancellazione del rinnovo e quindi a maggio non dovete neanche star l'anno a ricordarvi ma è molto probabile insomma che questa cosa vi piace che decidiate poi alla fine di di abbonarvi a questo servizio soprattutto se viaggiate tanto in macchina se ascoltate qualcosina mentre mentre correte no ecco è stato illuminante anche ascoltare ed istruttivo ascoltare la qualità audio di questi audiolibri recitati da voci importanti sempre sempre bellissime da ascoltare molto molto gusto in tutto questo però anche vedere quanto la differenza audio di qualità audio tra un audiolibro professionale e un podcast amatoriale come questo non sia poi così tanto alta mentre se voi guardate un trailer di netflix no e poi guardate il miglior video youtube c'è una bella differenza si vede la differenza di di profondità nell'audio no ed è una cosa di cui potremmo presto no approfittare un po tutti tra tutti i contenuti io ho iniziato ad ascoltare uno che si chiama grandi menti a confronto del quale vi consiglio i capitoli 15 e 9 il 9 parla di russell e di logica e vabbè il 15 parla di buck e di bob dylan del loro rapporto con la matematica per la costruzione delle armonie e della musica no io sono un fan di dylan ve l'ho già detto in diverse occasioni e lessi il suo chronicles il volume 1 l'unico che è uscito credo negli anni 2000 adesso non ricordo bene e proprio in questo capitolo si parla anche si cita anche una parte di questo libro quando lui racconta il modo in cui ha iniziato a usare la matematica per la creazione delle canzoni un metodo che gli fu insegnato da un da un jazzista e ne viene fuori una bella analogia tra la musica tra la creazione musicale appunto nei metodi che usava buck e che usavano a quei tempi con il dylan anche attuale poi lui ovviamente ci ha messo in mezzo i testi che che gli hanno permesso di vincere un nobel ma questo è un altro discorso tra l'altro se vi interessano queste cose e penso che ogni musicista non sia venuto prima o dopo in mente l'idea della matematica no all'interno dell'armonia di tutto il resto vi consiglio questo libro qua l'armonia è questione di numeri musica e matematica di questa collana mondo matematico che in questi giorni in edicola almeno io l'ho vista in edicola di recente io ho preso questi libri al mercatino qualche tempo fa ne ho 4 5 qua dietro o anche la sezione aurea che è molto molto bello anche questo l'ho lessi in estate e mi ha dato tantissimi spunti non solo sull'architettura ma sul rapporto delle proporzioni potremmo parlarne per ore di queste cose ma insomma l'armonia è questione di numeri è molto è un testo abbastanza tecnico perché si parla anche di geometria di tutto il resto insomma di leggere la musica e non solo di sentirla di ascoltarla però ve lo consiglio se vi capita di vederlo in edicola e siete appassionati a queste cose secondo me può essere un buon no un buono spunto così come vi consiglio appunto ve l'ho già detto audible fate l'abbonamento perché può cambiarvi davvero l'approccio il modo in cui voi passate le vostre giornate sentiamo una domanda sentiamo una domanda ciao riccardo intanto ti ringrazio per il consiglio del libro la mia domanda era una domanda a livello più tecnico sempre riagganciandomi al discorso della corsa come si è evoluta la tua attrezzatura nel tempo cosa consigli da acquistare in base alle proprie esigenze di running nel senso quali sono i consigli che dai per decidere come scegliere una determinata attrezzatura rispetto ad un'altra allora riprendiamo a parlare di corsa mettiamo che avete comprato delle buone scarpe mettiamo che avete fatto la visita medica mettiamo che siete usciti anche un po di volte e mettiamo che siete andati su the running pit a leggere un po le tabelle vi siete fatti un po un'idea no adesso magari volete un po approfondire ed ecco che vi consiglio un canale youtube il canale youtube di roberto martini si chiama personal running coach è un preparatore atletico un istruttore di corsa naturale come scritto nel suo canale youtube è un ragazzo che sta pubblicando negli ultimi mesi video ripetizione sono tutti video mediamente interessanti adatti soprattutto ai principianti comunque sempre piacevoli da vedere perché vi parla di cose che normalmente non trovate ci sono tanti canali youtube simili soprattutto all'estero però pochi sono hanno costanza perché la maggior parte dei runner insomma preferisce correre anziché star davanti al video no o comunque questi progetti hanno sempre un inizio no spinto e poi si perdono mentre vedo che roberto qua a costanza fa dei contenuti che secondo me possono essere guardati ascoltati e quindi vi consiglio lui per farvi un po un'idea generale no di tutto di tutto questo poi l'altra cosa che potete fare una volta che avete visto insomma capito che vi piace correre segnarvi ad una gara prendete andate su google cercate calendario gare nella vostra zona no calendario gare fida al mettiamo trovate una gara vicino adesso primavera è pieno di gare 5 10 chilometri mezza maratona iniziate piano non dovete forzare io sono l'esempio vivente di persona infortunata per non aver riposato abbastanza quindi una 5 chilometri per iniziare va più che bene per iscrivervi alla gara vi serve una tessera fidal no un'iscrizione a qualcosa mettiamo fidal in questo caso quindi o fate la run card che è una schedina che voi fate online oppure vi iscrivete ad una società sportiva meglio la società sportiva perché incentivate queste persone che fanno queste cose per passione soprattutto perché vi trovate a correre magari se volete non è obbligatorio se volete con persone che che magari sono sui vostri tempi che magari abitano vicino a voi perché cercate una società sportiva vicino casa e io tra l'altro in questi giorni mi sono iscritto alla roma ostia del 10 marzo ma insomma non so se la farò però ho anche rinnovato la mia tessera fidal non ho rinnovato più con la società sportiva che avevo in questi anni perché è scaduta la tessera scade ogni 31 ogni anno no quindi il 31 dicembre io l'ho rinnovata perché ero fermo e depresso e l'ho fatta adesso ho cercato un po su google le società sportive e ne ho scoperta una sotto casa mia vicino casa mia di una libreria e adesso sono iscritto a una società sportiva che si chiama asd tra le righe di una piccola libreria che sta qua sotto fantastico quando l'ho vista ho detto wow devo per forza iscrivermi alla società sportiva di una libreria è proprio una questione che si chiude un cerchio che si chiude e così fate potete fare anche voi potete fare le gare e vi dà davvero modo di approfondire di appassionarvi di più di più alla corsa se poi in tutto questo vi viene anche voglia di leggere qualcosa allora se siete dei principianti assoluti vi consiglio i libri di fulvio massini io qua andiamo a correre che è quello di qualche anno fa adesso ne è uscito un altro non mi piace tanto il suo approccio sulla respirazione sul ritmo no di corsa fatto in base alla respirazione però insomma è un approccio come un altro ad ogni modo su libri come questi voi trovate di tutto e di più dalle scarpe allo stretching alla dinamica di corsa a tutto alle tabelle è un libro che per iniziare questi di fulvio massini che è un runner di firenze famoso per essere anche stato il l'allenatore di di gianni morandi no quando faceva le maratone di new york forse avete visto qualcosa in tv però è un tecnico fidel nazionale certificato e tutto il resto e scrive dei libri che sono assolutamente accessibili se invece volete qualcosa di un pochetto più avanzato vi consiglio quello di orlando pizzolato che si chiama correre tra l'altro questa è la vecchia edizione forse è uscita un'altra non lo so leggermente aggiornata qua soliti metodi di massini insomma come complessità degli argomenti trattati però qua in una maniera molto più tecnica molto più specifica molto più adatta veramente a chi corre sul serio però è un libro in italiano scritto bene perché poi c'è sempre il problema di comprare libri tradotti che non rendono bene in italiano mentre qua è scritto da un italiano da un maratoneta top oppure io soprattutto vi consiglio questo qua 80 20 running fitzgerald un autore molto conosciuto attivo se cercate su amazon lo trovate ha scritto diversi libri anche sull'alimentazione dove vi spiega questo metodo 80 20 che in breve vi consiglia di correre l'80 per cento del vostro tempo lenti e il 20 per cento veloce questo significa soprattutto perché poi un discorso molto ampio che riguarda gli atleti che corrono tutti i giorni perché a quel punto si fa soprattutto riposo il recupero attivo quindi correndo e poi fase molto intensa però qua vi consiglia in breve vi spiega perché è giusto fare delle corse veloci 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 o meglio dare tutto quando dovete fare l'allenamento veloce ma al tempo stesso andare piano e stare molto molto più tranquilli di quello che il vostro corpo vorrebbe fare quando dovete fare recupero e fasi e fasi lente è importante notare questo perché quando si fanno le tabelle si dice sempre ok quando fai la corsa lenta deve essere lenta il problema è che quando tu stai bene magari te la fai a 4 30 4 20 mentre dovresti farla 5 no per per buttarla se volete invece tabelle semplicemente tabelle perché online non vi piace volete la carta c'è questo libro qua 10 21 42 come preparare le gare su strada che ha una buona parte introduttiva abbastanza tecnica anche qua e poi tutta una serie di tabelle che potete seguire io le ho usate fino ai 10 21 chilometri per anni sono delle buone tabelle generali chiaramente la tabella ideale è quella che vi fa il vostro allenatore in base alla vostra gara in base al tempo che avete però questi sono dei buoni sono dei buoni punti di partenza se poi volete invece qualcosa di di saggi dei saggi della saggistica sulla corsa ce ne sono tantissimi libri io però vi consiglio questi due murakami l'arte di correre assolutamente da prendere se conoscete un o meno l'autore se vi piace o meno lui ma soprattutto vi consiglio gastone breccia la fatica più bella questo libro per maratoneti dove lui parla soprattutto di maratona ma lo fa con una profondità stilistica dovuta al suo insomma al suo lavoro la sua professione e lo fa con un amore con una voglia di 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 correre di fare maratone di faticare per raggiungere quell'obiettivo là che vi fa veramente venire voglia di andare a correre questo libro la fatica più bella è consigliato a chi ha appena fatto una gara e deve iniziare no a farne un'altra magari non ha voglia una voglia di iniziare con gli allenamenti una voglia di faticare questo libro ti fa tornare la voglia di ripartire di capire perché lo stai facendo e dove puoi arrivare no insistendo ancora un po ci sono altri libri soprattutto relativi all'alimentazione soprattutto relativi anche agli esercizi all'anatomia della corsa lo stretching e queste cose qua ma ne parleremo in un'altra puntata perché altrimenti si mettono troppe cose troppe cose in ballo l'unica cosa che vi posso dire comunque bevete tanto fate un bel riscaldamento di 10 15 minuti camminata veloce o corsetta lenta 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 insomma fate sempre riscaldamento sempre a prescindere perché altrimenti correte male quando siete esperti quando vi serviranno veramente 30 minuti per fare riscaldamento vi renderete conto di quanto magari gli anni prima avete corso male semplicemente perché non facevate riscaldamento e poi per rispondere finalmente alla domanda iniziale in questa fase vi basta un qualsiasi sport watch che abbia il gps che vi possa tener traccia dei chilometri percorsi lasciate perdere i vari contapassi vi serve qualcosa con il gps che vi possa dare che vi possa dare davvero un riscontro abbastanza credibile sul passo e su queste cose qua non è fondamentale al momento avere uno strumento che vi permetta di pianificare allenamenti e quindi fare ripetute fare queste cose un pochetto più avanzate però se avete un modello da apprendere vi consiglio la linea garmin un 235 o un 645 insomma dipende da quanto volete spendere perché si possono espandere nel tempo e perché il sistema garmin inteso anche come pacchetto completo è secondo me il migliore in questo momento per quanto polar sunto e tutto il resto abbiano dei buoni dei buoni pacchetti assolutamente però io preferisco garmin perché lo vedo più profondo rispetto rispetto agli altri perché lo integro con i dati della bilancia lo integro con tante cose con tanti sensori e perché fino adesso veramente non non ha mai sbagliato sbagliato un colpo anche un apple watch soprattutto se avete la series 3 o la series 4 va va benissimo anzi probabilmente anche un po' sprecato visto quanto costa se dovete prenderlo soltanto per corsa no però poi dai ne parleremo ne parleremo ancora nella prossima puntata la prossima domanda invece è di mattias me l'ha scritta un messaggio di testo e quindi ve la leggo io ciao riccardo sono mattias ho 32 anni innanzitutto ti faccio i complimenti grazie grazie mille una volta cercavi una cosa su internet finivi in un forum specializzato su quel determinato argomento alla fine della ricerca sapevi un 70 80 per cento di un argomento ora invece siamo bombardati dalle informazioni ed è veramente difficile restare focalizzati sulla ricerca iniziale senza farsi prendere dalla smania di conoscenza generalista tu come fai a restare focalizzato su una ricerca hai un metodo tuo ti fissi degli obiettivi grazie mille complimenti guarda è semplice questa storia credo che gli argomenti vada siano ad approfondire nei libri nei testi non nei saggi moderni non negli articoli su medium non nei podcast quelle possono essere delle delle scintille che ti fanno che ti fanno approfondire qualcosa che ti danno l'idea per approfondire che ti possono far capire più o meno se quell'argomento ti può interessare però se vuoi sapere una cosa se vuoi andare a fondo se vuoi avere degli spunti poi dopo da dire se vuoi avere qualcosa da dire ecco io ti consiglio libri i testi soprattutto i classici soprattutto i testi universitari i testi di filosofia di un determinato argomento perché poi scopri leggendo quelle robe che magari l'ottanta 90 per cento delle tecniche che che magari trovi in un ted talks o che trovi in un articolo molto bello per carità però diciamo per forza di cose stretto e chiuso no e vincolato dal web ecco scopri che tutte queste cose magari hanno delle radici da testi da tesaggi da dei filoni di filosofia da un certo no ramo dell'arte te la butto là e quindi io credo che i testi leggere i libri sia la soluzione ad approfondire queste cose richiede più tempo ovviamente però non è tempo sprecato perché chi riesce a farlo ha un qualcosa in più rispetto alla concorrenza rispetto al tuo al tuo collega rispetto al tuo competitor non si butta mai niente e di quello che si legge e ti assicuro che poi con il tempo più fai questa cosa e più ti rendi conto di quello che ti interessa di quello che vuoi veramente andare ad approfondire non andrai più a cercare informazioni online quando vuoi sapere qualcosa ma magari andrai direttamente in libreria c'è un'altra domanda che riguarda un po questi discorsi i modi per entrare a fare il lavoro che faccio il lavoro che che fanno altri colleghi ovvero lavorare nel web scrivere articoli non dico fare recensioni ma comunque lavorare proprio nell'editoria online quali consigli posso dare ad una persona che si affaccia adesso beh io mi allaccio ancora il discorso che ho fatto prima sulla che faccio ormai da un po sulla sulla competenza sulle competenze il tuo valore aggiunto sono le competenze quindi sconsiglio di andare a lavorare con qualcuno a rimborso diciamo spese per più di due o tre mesi per farsi le osse tutto il resto a fare l'articolista a leggere le news a scrivere cosettine diciamo superficiali questo ti può servire dall'inizio per capire un po come funziona il settore per conoscere delle persone per prendere pratica perché se devi scrivere devi scrivere tanto e quindi metterti là ogni giorno e fare 10 news 15 news è un bel allenamento questo te l'assicuro soprattutto se sono news dove tu non ti limiti a tradurre l'articolo che trovi online ma dove metti del tuo e però poi devi staccarti devi fare qualcosa di tuo devi mettere online un progetto se questo progetto riguarda un sito web puoi farlo benissimo in questa fase dell'informatica con una spesa ridicola ti compri un dominio 10 euro vai su github pages uso un generatore di siti come ugo e ti fai un sito a costo zero il mordente.it e riccardo.m sono stati su github e sono generati a mano e mi costano zero ho soltanto comprato il dominio sono dei siti statici devi ovviamente fare un sito statico per avere queste cose qua però se tu devi promuovere la tua app se devi mettere online il tuo portfolio se devi fare un prototipo di qualcosa che hai in testa vanno vanno più più che bene e è una cosa importante perché ai miei tempi serviva il sito serviva l'hosting servivano delle spese per tirar su un piccolo sitarello è vero che adesso con un semplice wordpress tu riesci a strutturarti un sito grosso quanto quello dei 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 siti più grandi e più famosi no però non è questo il tuo obiettivo tu non devi cercare di fare il nuovo hd blog non devi cercare di fare il nuovo repubblica tu devi fare la tua visione devi fare la tua piccola perla aspettare che qualcuno se la venga a prendere e la noti non è semplice però è l'unico modo che può aiutarti a uscire anche perché tutto questo se fatto nel modo corretto ti permetti di sviluppare delle competenze che poi ti risultano fondamentali ti assicuro che anche le redazioni più importanti sono sempre in cerca di persone qualificate se sei un appassionato di scrittura se sai che magari ecco fare l'editor può essere il tuo lavoro specializzati in quelle cose là ci sono anche dei corsi un editor capace un titolista capace trova lavoro ovunque in questo momento perché tutte le redazioni hanno sempre bisogno di queste competenze specifiche si trovano tanti articolisti tanti ragazzi che sono disposti veramente per due lire a scrivere articoli e coprire il flusso di news si trovano poche persone che hanno che hanno la capacità di tirar su un team e di correggere gli errori altrui di dire qualcosa e quindi fare in modo che le persone siano là ad ascoltarle evita poi se vuoi fare video di scopiazzare lo stile degli youtuber americani che hanno un budget dieci volte superiore al nostro e è una cosa completamente diversa parlano in una lingua diversa che si rivolge a tante più persone trova il tuo il tuo modo è molto meglio un video che fa poche visualizzazioni ma che dà degli spunti che fa intravedere quello che potresti fare magari con un con un attrezzatura seria o con più tempo del solito video la solita recensione con la piantina gli schermi grigi il tavolo di legno insomma le lucine colorate dietro i led insomma sono cose ormai ormai secondo me fatte soprattutto se tu ti affaccia adesso a queste cose dovresti cercare altro cercare altro quello che voglio far passare comunque è che non deve essere un prodotto finito quello che tu mostri deve essere l'idea è l'idea quello che che viene quella che è cercata soprattutto in questo momento se devi progettare un'app ti basta fare un prototipo ti basta fare una cosa che funziona così no magari finta magari soltanto un html magari una progressive web app come come vi ho parlato diverse volte anche sul canale telegram no non devi fare un'app che è pronta per scalare 10.000 utenti non devi nemmeno pubblicarla magari se hai un sito dove la puoi distribuire e poi magari segnalarla nel nei vari canali social e tutte queste queste cose qua e altra cosa il tuo prodotto potrebbe anche non essere un sito web potrebbe essere magari un buon account instagram gestito bene un progetto di un blog gestito su instagram fatto su instagram e o di un altro social network ci sono tanti social network nuovi puoi esplorare quelle cose là insomma trova la tua via e cerca di tirar fuori te stesso vedere che alla fine è un processo che ti farà solo solo bene personalmente professionalmente va bene dai io torno di là devo fare la valigia domattina si parte questo podcast probabilmente andrà in onda domani domenica e non al lunedì come al solito quindi una sorpresa che spero che spero vi piaccia è tutto è tutto grazie come al solito per avermi ascoltato e ci ascoltiamo ci ascoltiamo la prossima settimana domenica 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 Grazie a tutti.